ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora come avete capito dal titolo oggi vi farò vedere gli acquisti che ho fatto sul sito di passioni e unghie di questo mese di aprile e sono uscite varie novità e ne ho prese soltanto tre ci sono state tante novità tanta roba però comunque hanno fatto novità per quanto riguarda questo periodo che noi stiamo affrontando del coronavirus quindi hanno fatto un sacco di disinfettanti c'è anche un purificante gel se non era insomma varie cose queste cose non ho preso perché qui a casa sono piena poi come sapete col fatto che mia mamma fa le chemie tutto ogni tanto gli danno qualcosa per portarsi a casa per quanto riguarda disinfettanti insomma sta roba qua vari gel eccetera quindi di queste robe sono piena quindi non ho preso niente e niente andiamo avanti vi faccio vedere le cose che ho preso insomma allora intanto andiamo avanti cioè vi faccio vedere come prima cosa lo mancino io ho convinta che mi mandassero quello nero perché mi piaceva tanto perché ho visto vari vide per quanto riguarda passioni e unghie ho visto che quasi a tutte le ragazze che hanno acquistato su passioni e unghie hanno inviato questi brillantini qua sempre olografici anche questi sono olografici però sul nero mica perché io ce l'ho alla fine però era belli allora qui che adesso li vedo meglio con questa luce questi non ce li ho non so che colore primario non so se lo potete percepire comunque sono olografici pare che va tipo su color sabbia comunque un giallo un verde non lo so però è molto figo questo anche per fare l'enelarte comunque o sennò potete mettere anche su tutta un'unghia metà unghia poi vedete voi però molto molto bello questo mi mancava non ce l'ho quindi alla fine sono più contenta quasi di questo che di quello nero che alla fine ce l'ho ok quindi questo è stato l'ommagino grazie sempre mille può poi mi sono riacquistata il binder hanno cambiato adesso li mettono in questa scatolina sono prima lì ce lo fanavano tutti insomma con quelli lì che schioppano le bollicini che schioppa vedete infatti binder allora questo qui la terza è la terza volta che l'acquisto ma non perché mi finisce perché lo faccio cascare puntualmente quando lavoro sulle clienti su di me boom non ce faccio apposta faccio casca e me ne perdono a metà mi fate adesso c'è proprio una puntina e quindi l'ho riacquistato il binder nel prep e primer so piena ancora qui come si apre incastrato l'ho rompo un'altra volta aspettate non so come l'hanno messo dentro se scatoline adesso sono nuove e boh come se che anch'io se leva vabbè c'era la scatolina vedete era dentro a così insomma vabbè la scatolina aspettate che la butto perfetto eccolo qua quindi il binder insomma lo conosciamo tutti no ve lo apro eccolo qua ok perfetto e poi dei binder ho fatto caso solo i binder invece fa messe spacca il tappo sopra cioè vengono già direttamente spaccati però vabbè comunque eccolo qua il binder speriamo di non fare fuori anche questo comunque io ogni ogni prodotto come avete visto anche del binder scrivo il prezzo ad ogni prodotto allora questa qui era solo la cosa che comunque mi serviva che ovviamente è arrivato fino a quaggiù ok hanno fatto uscire un nuovo colore però hd adesso poi questi li andiamo a stendere insieme ed è già l'ho aperti l'ho visti i colori infatti vedete qua le forbiciate allora è uscito questo nuovo colore che è cupido hd color che è una base insomma per semi permanente che con questo voi potete fare praticamente tutto però loro consigliano di mettere una base sotto ovviamente quelle trasparenti tipo che ne so base alfa extra base credo queste robe qua e poi sotto ha fatto direttamente tutto con questo praticamente anche come come lucido credo dovrebbe essere non voglio dire cavolate ma credo di sì quindi questo è cupido hd color intanto ve li faccio vedere così poi andiamo a stendere insieme allora io non pensavo dal video sia la diretta avvicino un po la videocamera che era questo rosa è un rosa porpora non ve lo so di comunque su naturalità del rosa ovviamente questi qui questo è bello acceso pare tipo fuori già qui per di peli bene come si dice è bello acceso come colore quindi non renderà mai in camera in effetti lo fa molto più sparaflesciato e non è proprio veritiero colore quindi non è fedele e proprio vita che era un rosso io c'è io dalla diretta in più delle foto dal video che hanno fatto lì sul sito dei loro su facebook unita che ero rosso invece no è questo rosa però comunque mi piace lo stesso meno c'è uno nuovo perché tempo fa avevano fatto sto kit sempre quelle scatoline rettangolari dove c'era tutti questi hd color queste basi così colorate e l'ho presi tutti e questo qui non ce l'aveva uscito nuovo quindi l'ho preso quindi questo è cupido poi delle novità che si uscite oltre a quello sono uscite queste bellissime scatoline quindi abbiamo questa che è candy sweet che sono 5 semi permanenti pastello e poi è uscita quest'altra quest'altro kit kit quest'altra collezione qui dei kit che è fluo pastello cioè pastelli fluo veramente sono una bomba allora adesso ve li faccio vedere allora andiamo prima con andiamo prima con fluo pastel vai eccoli qua questi sono le 5 colorazioni adesso ve li faccio vedere poi andiamo a sedere insieme allora abbiamo gamey beer l'sp 168 e io ragazzi questi vi consiglio a comprare direttamente il kit con tutti dentro i 5 semi permanenti perché spendete veramente molto di meno se li prendete sicolarmente invece spendete di più però dopo sono gusti ecco se vi piace non vi piacciono tutti normale ma andate spende i soldi da per tutto il kit ne prendete due tre quelli che vi piace però se vi piacciono tutti vi consiglio tutto il kit che spendete molto meno allora gamey beer ha questa colorazione qui allora voi lo vedete leggermente più chiaro ma invece in realtà un po più acceso pare tipo un salmone una roba del genere molto bello ci sarà anche la punta di arancione comunque molto bello questo ok poi abbiamo apple pie che l'sp 169 che questo è un giallo sono veramente pastello ragazze però fluo dopo le andiamo a sedere insieme così vi dico anche come si stendono dato che il pastello come sappiamo non sono un po difficili da stendere da applicare questo è un bellissimo giallo e quindi dopo vi sarò dire meglio dato che andiamo a stendere insieme vi so dire meglio come sono se si stendono bene se sono potenti eccetera poi abbiamo questo che ai slime l'sp 170 che questo è un bellissimo verde questo è veramente tanto bello poi abbiamo se riesco dentro poi abbiamo questo che big bubble che l'sp 171 comunque ragazze rendono molto 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 da dal vivo è questo è un rosa che in videocamera insomma poi il pacco mi è arrivato proprio adesso questo qui a wild berry l'sp 172 aiuto ed è questo viola lilla non è proprio viola viola lilla ok quindi questo qui è il kit del fluo pastel lo mettiamo qua perché dopo lo andiamo a stendere poi andiamo a vedere invece quest'altro kit di candy sweets ovviamente vi dico sempre i prezzi scrivo allora sempre 5 semipermanenti quindi abbiamo cupcake questo è l'sp 173 a questa kit qui di candy sweets sono pastelli normali quell'altro invece era pastelli fluo è per non farvi confondere questo è un bellissimo rosa tenue sono bellissimi sti colori ok poi abbiamo questo che è macaron sp 174 questo pure è un lilla se mi chiedete che sicuramente voi chiedete questa tovaglietta qui di passioni unghie l'ho presa tanti 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 anni fa e ormai non sono più in vendita non ci sono più su passioni unghie queste tavoliette almeno quello che io so perché tante ragazze le sono andate a cercare ma non ne ho trovate quindi per me l'hanno proprio finita e non ce l'hanno più perché c'era bianca viola e rosa mi pare io ho preso quella bianca si vede infatti che ci ho fatto un po' di prove e quindi l'ho voluto mettere dato che se parla di passioni unghie mi piaceva vedete una tovaglietta così mi piaceva comunque in silicone metterla come sfondo quindi se me lo chiedete ragazze l'ho presa su passioni unghie ma tanti anni fa quindi non credo che ci sono più nel sito allora vi stavo dicendo che poi abbiamo Candyman che è questo qua questo colore celestino molto chiaro tanto ovviamente sono pastello poi abbiamo il penultimo colore che è Honey che è l'SP176 che è questo bellissimo colore qua dovrebbe essere tipo un corallo molto molto chiaro bellissimo questo non vedo l'ora di stenderli poi abbiamo l'ultimo invece aiuto che è Mint Cream che è l'SP177 ecco questo qui è pure questo un celestino ma tipo verde acqua no c'ha più di menta pare solo che è molto molto chiaro voi lo vedete più sul celeste ma pare più menta tipo verde acqua sta roba qua ok ragazze quindi questa qui era la collezione di Candy Sweets adesso li metto qua perché adesso ci prepariamo per andare a stenderli ma quanto sono carine le scatoline c'è guardate che bellezza questa è quella di Fluo Pastel e dietro è tutta rosa quest'altra invece è carinissima pure Candy Sweets che dovrebbero essere le caramelle le marshmallow c'è anche dietro dovrebbe essere dovrebbe va bene ragazzi niente adesso cominciamo a stendere i colori eccomi qua ragazzi allora io ho questa rotellina qui perché io di solito per le clienti per fargli vedere i colori le stendo su queste tip qua però purtroppo queste le ho finite meno male che ho qualche rotellina ancora ce l'ho da parte dove io queste qui le utilizzo per fare linee l'arte per fare i video con voi però questa qui adesso è nuova l'ho aperta prima e la utilizziamo per mettere i colori li metto qui purtroppo tanto non ce n'ho altri quindi non si può fare niente allora avvicino un altro po' alla videocamera se riesco perfetto ok e partiamo con la collezione che ho fatto vedere all'inizio la prima del Fluo Pastel pastel perché mi viene pastel non lo so ok allora cominciamo con questo qui Game Beer SP168 vi dico anche il numerino perché se non volete prendere il kit volete solo il numerino c'è solo un colore sapete anche il numero andiamo a stenderlo e vediamo un po' come si comporta allora quanti sono? 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, è tanto uguale ok cominciamo da qui andiamo a stenderlo si pratica ecco ho già sporcato il barattolino non proprio un salmone è un arancione allora si stendono benissimo scivola molto il colore non è malvagio quindi si stendono molto molto bene e direi che anche come prima passata sono belli coprenti cioè almeno questo bello coprente ne andiamo a stendere direttamente tutti e 5 almeno così scivola proprio il colore si stende che è una meraviglia ragazze mi piacciono poi pure questi sono autolivellanti quindi diamo un attimo dopo andrò a fare sempre una seconda passata e diamo il tempo prima di mettere in lampada in lampada che si autolivelli allora adesso passiamo a quest'altro Apple Pie SP 169 che è questo bellissimo giallo ok anche questo uguale a quell'altro si stende benissimo guardate c'è la prima passata già coprenti mi stanno piacendo molto perché con i pestelli non ci speravo queste a parte sono anche fluo poi ripeto andrò a dare una seconda passata e poi ragazze una cosa vi volevo dire adesso non perché siete voi io dico in generale così per parlare allora andiamo a stendere i slime e l'SP 170 Chris nella diretta lei si era un po' arrabbiata tra virgolette nel senso perché lei riceve dei messaggi veramente brutti che praticamente le persone gli vanno a dire tipo quando fanno l'acquisto vedono che durante quel primo giorno il secondo giorno il pacco non gli arriva gli va a dire subito mi hai rubato i soldi mi hai rubato i soldi loro non rubano i soldi a nessuno ragazzi allora purtroppo è già la situazione quella che è che stiamo vivendo questo ragazzo è bellissimo coprentissimo bellissimi sti colori si vede che sono pastello ma belli fluo proprio e stiamo passando quello che stiamo passando no? Big Bubble SP 171 e ho anche una sbattuta un attimo e quindi loro lì dove stanno lavorando loro non c'è tutto il personale tantissimo come c'era prima quindi che c'è tante persone che comunque preparano i pacchi eccetera è dimezzato ovviamente il personale per questa situazione quindi dovete avere pazienza e fatti lei l'ha detto se poi i corrieri pure che riescono anche loro andando in giro pure loro non sono tantissimi dei corrieri e poi ragazzi bisogna avere pazienza adesso se il pacco come pure lei l'ha detto non vi viene il giorno dopo o dopo due giorni non muore nessuno se dovete aspettare qualche giorno in più io pure ho dovuto aspettare allora contate che oggi siamo a mercoledì andiamo a stendere Wildberry SP 172 oggi siamo a mercoledì io il pacco io l'acquisto scusatemi l'ho ordinato giovedì scorso della scorsa settimana giovedì della scorsa settimana alle 10 di mattina io convinta dico vabbè mi arriverà il giorno dopo perché se sa che su Passione Unghe se voi ordinate prima delle due il pacco avariva il giorno dopo se invece ordinate dopo le due il pacco avariva dopo due giorni poi dopo dipende sempre dove state dove abitate eccetera e ragazze so coprentissimi sti colori ma perché c'è sta sti peletti ma dove vienene qui non li vedete scusate un attimo intanto vado a mettere in lampada andiamo a catalizzare quindi catalizzo tutti poi farò una seconda passata e quindi capito ragazze se voi ordinate prima delle due il pacco avariva dopo due giorni dopo un giorno il giorno dopo praticamente se invece praticamente ordinate dopo le due il pacco avariva tra due giorni io però contate che io comunque ho fatto l'ordine giovedì scorso alle dieci di mattina e vi ripeto convinta ovviamente che tanto era prima delle due ho fatto lo questo e non arriva il giorno dopo e invece non è stato così ma per sto fatto che loro sono in pochi a lavorare lì adesso cioè meno personale in più col fatto di corriere pure ne sono rimasti pochi eccetera eccetera quindi immaginavo però non è che dicevo vada di a Crissima vada la Gnau a Max a D a Rompi a Sai a Rompi i coglioni e no ma perché e qua di là di su di giù mi rubate i soldi che i soldi te ruba a me infatti il pacco mi è arrivato mercoledì ma mi è arrivato mercoledì perché c'era sabato domenica di mezzo che poi era pure Pasqua londì era Pasquetta io convinta infatti che mi arrivava martedì ieri ieri infatti non mi è arrivato dico al fine mi arriverà oggi infatti oggi mi è arrivato sì casomai io posso dire madonna no quando arriva no non vedo l'ora che mi arriva perché no c'è la foga di avere queste cosine nuove no è normale tutti gustano quando arriva il corriere ti gusta però ragazzi bisogna stare più calme cercare comunque di rispettare anche gli altri e volere bene anche gli altri non solo a noi e purtroppo la situazione è questa e non possiamo fare nient'altro quindi dobbiamo allarmarci di pazienza e basta ragazzi e niente volevo dire solo questo appunto qua nel senso che comunque a me mi dà fastidio quelle persone che hanno le foga e poi io ho foga però non è che mi cominciano a corrumpire nelle persone aspetto quando arriva arrivo prima o poi arriverà va bene ragazzi adesso vado a dare una seconda passata dei quelli poi ve li faccio vedere e poi passiamo direttamente all'altro kit eccoli qua ragazzi c'è veramente stupendi guardate che roba ovviamente li sfalza un po' perché sono molto più tenui dei così sparaflesciati come le vedete voi quindi sono più delicati voi li vedete più forti ma sono più delicati comunque sono fluo quindi questa qui era il kit di fluo pastel la collezione adesso passiamo a stendere invece quell'altro kit dei candy sweets allora andiamo a prendere cupcake sp173 andiamo a stendere questi invece sono pastello quindi vediamo come si comporta anche questi scivola scivola bene ragazzi io sono rimasta libita perché i pastelli ogni volta mi urtani ad applicarli questi guardate che roba sono anche molto coprenti c'è proprio bomba cioè veramente cioè sono fantastici mi piace mi stanno piacendo veramente tanto questi colori quindi di questi qua che dirvi questi sono fantastici prima passata già pure quelli sono coprenti andiamo con macaron sp174 sono coprenti e si stendono bene non ho fatto fatica assolutissimamente a stenderli poi poi certo questi poi i fluo messi su una carnagione scura comunque abbronzata sono una bomba anche quest'altro pastello qui credo sono mano abbronzata allora no vabbè questo è un po' più chiarino quindi normale che come prima passata non copre tanto però fa il dovere suo insomma dai guardate mi piace poi andiamo avanti pure questi dopo ragazzi ovviamente andrò ad dare una seconda passata abbiamo candyman sp175 ho bellissimi questi pastello questi mi piacciono veramente tantissimo anche quelli fu ovviamente questo anche molto delicato ragazzi se stanno benissimo io sapesti peletti da dove viene questi peletti neri povedine che l'ho usati la prima volta che li usa adesso dopo le cacchia tocca vedete cacchia dei peli comunque eccolo qua questo celestino molto bello sono delicati nel po' facciamo il po' c'è il colore cosci delicata in a bomba poi abbiamo honey sp176 andiamo ad applicare anche questo quindi abbiamo il rosa il lilla il celestino questo dovrebbe essere su un corallo pare su un corallino salmonebo molto bello anche questo si stendono ragazzi divinamente non mi hanno dato non mi stanno dando perché sto applicando adesso nessun tipo di problema vi distra consiglio poi passiamo all'ultimo adesso chiudo questo poi ovviamente andrò a dare una seconda passata dopo vi faccio vedere la fine andiamo a mint cream sp177 dopo ovviamente qua sopra scriverò il nome scriverò dopo il nome qua dicino questo è quello celestino allora ragazzi si stendono bene non mi hanno dato nessun tipo di problema non mi stanno facendo smattire per niente quindi mi piacciono tanto bellissimi sono il top ok eccoli qua metti lampada vado a dare una seconda passata poi vi faccio vedere allora ragazzi eccomi qui andiamo a stendere anche cupido hd color questo questo non ce l'ha numerino però no questo dovete andarlo a cercarlo direttamente col nome lo sbatto un pochino andiamo ad applicare anche questo dopo non lo sto mettendo in lampada lo metto dopo quando finisco di parlare con voi infatti molto molto denso che tanto comunque sempre un hd quindi è solo colorata quindi sempre una base solo colorata che ci potete fare tutto è stupendo ragazzi è un bel rosa si bello acceso come potete vedere bello fluo bellissimo questo questo ovviamente voi date una prima passata veramente sottile sottile no come ho fatto io adesso qui ci ho messo un po' di più portate nella tip non mi interessa però nell'unghia della cliente o vostra mi raccomando prima passata sottile e poi la seconda passata sempre sottile ma leggermente proprio abbondante eccolo qua bellissimo top questo colore bello proprio è un bel rosa acceso un bel rosa fluo porpora bello però mi sa che una puntina del rosso c'è ma per questo lo vedevo rosso in videocamera oppure nelle foto allora ragazzi i colori li abbiamo stesi che dirvi sono veramente fantastici ecco qua questi sono quegli altri cinque che non metto a fuoco porca miseria quanto me da urto che non metto ok è a fuoco paradisi eccoli qua 3 4 5 1 2 3 4 5 veramente stupendi questi sono gli altri cinque quindi questi dall'arancione fino al viola sono il fluo pastello da questo rosino qua il celestino sono il pastello semplice questa vabbè è la base insomma e ragazzi che dirvi sono stupendi io ve li straconsiglio perché sono bellissimi poi io pastello fluo non li avevo alcuni pastello ce li ho ma non di queste tonalità qui e sono veramente fantastiche bellissime quindi io questi kit ve li consiglio se li dovete acquistare ripeto acquistate direttamente tutto il kit sempre se vi piacciono tutti i dieci colori ovviamente acquistate direttamente il kit che spendete meno e niente sono soddisfatta non me l'aspettavo perché a me i pastelli mi hanno fatto sempre impazzire anche di gel color che ho comunque alcuni mi fanno impazzire questi invece si stendono da una felicità da una facilità assurda veramente veramente sono veramente il top e bellissimi bellissimi ragazzi e come vi ripeto come prima passata sono coprenti sono anche autolivellanti l'importante è che prima di mettere la mano in lampada o fa di mettere la mano in lampada al cliente e fai spettacolo in 5 secondi il tempo che un po' il colore si autolivelli io niente ragazzi spero che questo video di passione unghia del mese di aprile vi sia piaciuto se è stato così mettete un bellissimo pollicione in su e spero che vi sia stato utile per i vostri acquisti sotto i commenti commentatemi fatemi sapere cosa ne pensate di questi colorini io niente vi saluto vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao ciao